Ed ora il ricordo di Ratzinger con la testimonianza di Pier Giorgio Odifreddi, matematico, ateo, amico del Papa Emerito. Buonasera professore, tanti vostri colloqui, dicevo, gli scambi di lettere, quando l'ha visto l'ultima volta o quando ha avuto modo di sentirlo? L'ultima volta di persona, in realtà l'ho visto prima del Covid, perché poi non è stato più possibile, l'ultimo anno non stava più bene, ma l'ultima lettera gliel'ho scritta il 21 dicembre, non a caso perché il 21 dicembre è il solstizio d'inverno, che ovviamente per un laico e uno scienziato sono una data significativa, però oggi ho fatto gli auguri di Natale, che erano quattro giorni dopo, che invece era una data significativa per lui. Era un rapporto di questo genere, in cui ognuno portava quello che aveva. Certo, professore, quale legame univa un teologo come Ratzinger a uno scienziato, un matematico ateo come lei? In realtà io sono un logico matematico e durante la scolastica, per esempio, per tre secoli, tutti i filosofi dell'epoca, appunto i filosofi scolastici, usavano la logica per cercare di dimostrare l'esistenza di Dio. Poi quell'impresa è fallita, però straordinariamente nel Novecento c'è stato un signore, un grande logico, che si chiamava Kurt Gödel, che diede una dimostrazione dell'esistenza di Dio fatta in maniera matematica. E di questo abbiamo parlato molto, sia per lettera che a voce, e addirittura poi quel teorema è stato girato da un mio collega americano, che si chiama Friedman, che ha dimostrato che se Dio esiste la matematica non ha contraddizioni, che è quello che tutti i matematici sognano che sia vero. Quindi in un certo senso ci sono queste strane vicinanze, strane affinità tra la teologia e la matematica. Grazie infinite professore e buona serata.